Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Piccola premessa, il calcio a mercato a me personalmente fa molto schifo per un motivo preciso, in tanto perché di per sé quando si parla di calcio a mercato spesso viene in modo errato, anche se in realtà purtroppo, la realtà di c'altro, ha quello che è il giornalismo sportivo, come se fare il giornalismo sportivo riguarda solo fare il calcio a mercato e quindi i gossip, perché alla fine il calcio a mercato non quello reale, ma quello di cui si parla spesso è gossip. È un po' come la cronaca nera, il gossip sui giornali tipo il Corriere della Sera e invece calcio reale, tattica, notizie vere sul calcio e calcio a mercato che è gossip. Per me il gossip non piace perché chiaramente il gossip va a prendere le cose verosimili e le pompa, ci ricama intorno delle cose che in realtà non sono reali e sono anche di poco interesse, al di là del fatto che siano più o meno reali. Siamo ad aprile, però c'è un piccolo problema. Ad aprile non sappiamo ancora se questo campionato andrà a termine, non sappiamo quindi se giocheremo, se non giocheremo, se il campionato finirà il 30 di giugno, cioè l'esercizio il 30 di giugno, la stagione del 30 di giugno, o se finirà prima, se finirà dopo, se si giocherà anche in estate, se non si giocherà in estate, non sappiamo nulla. E appunto per questo il calcio a mercato è una conseguenza diretta. Nel momento in cui sapremo con certezza quello che sarà l'esito di questo campionato, allora potremo fare il calcio a mercato. Ciò non vuol dire che adesso, in questo momento, le società, i club, le dirigenze, quindi i vari palattici, non stiano lavorando per il calcio a mercato, per formare la squadra del futuro. Perché, come diceva, mi pare fosse un'intervista di qualche tempo fa ad ausilio, non vorrei sbagliarmi, potrei anche sbagliarmi, ma comunque un'intervista a un dirigente sportivo di livello, si diceva che comunque la squadra, le dirigenze, chiedete di lavorare tutto l'anno, perché chiaramente non è che c'è la finestra di calcio a mercato e la finestra nella quale ufficializzi chiaramente i nuovi contratti, i trasferimenti, ma durante l'anno ci sono delle programmazioni che vanno avanti, quindi il lavoro è sempre continuo. Quindi questo è un discorso appurato. Discorso diverso dal fatto che al momento non è prioritario. Al momento è prioritario capire di che morte morire, nel senso se questo campionato andrà o non andrà a terminarsi. Per un motivo preciso, perché chiaramente parlare adesso di colpi di calcio a mercato e vedo che sono molto sul pezzo, tra le virgolette, i vari giornali, i vari tutto sport e così via, parlare sul calcio a mercato è oltre che pericoloso e dannoso, ma è anche proprio ingiusto. Perché? Perché se non dovesse terminare questo campionato i club avrebbero grossi problemi economici con una praticamente assente possibilità di fare dei calci a mercato interessanti. Se dovesse continuare il campionato forse potremmo avere delle situazioni migliorative, ma non lo sappiamo, perché chiaramente non possiamo sapere quanto effettivamente sarà l'impatto di questo coronavirus sul mondo del calcio se non affidarsi a previsioni. E appunto per questo il calcio a mercato è conseguenza. Quindi fare un calcio a mercato interessante in condizioni di emergenza sarà, vorrei dire, vendere pezzi pregiati a club che probabilmente sono nella tua stessa situazione. Quindi sarà anche difficile, molto difficile, vendere pezzi pregiati a prezzi decenti, così come sarà difficile chiaramente comprarli a prezzi decenti. Quindi in questo momento non sappiamo quello che potrebbe essere lo scenario. Appunto per questo Farno mi pare errato. Mi pare errato, ma come sempre, ripeto, qual è l'obiettivo di chi fa questo tipo di gossip? Chiaramente in momenti in cui non si può parlare di calcio, perché notizie di calcio non ce ne sono, se non aggiornarci ogni settimanalmente di quando potrebbero essere date, anche lì poi bisogna capire se sono date verosimili oppure ipotesi personali di qualche adite lavori. E parlare di calcio mercato è giusto perché chiaramente non c'è nulla di verosimile al momento, non ci si può adesso esporre su quelli che saranno andamenti. Io in questi giorni ho visto almeno due nomi per l'attacco della Juve, Milik e Ika, due nomi totalmente diversi, con cifre diverse, con squadre in mezzo diverse, con situazioni diverse, perché uno è in prestito al PSG, c'è ancora di scatoli in mezzo, quindi non sappiamo noi di tutto ciò. C'è un attaccante, l'attacco da Juventus ancora consiste in Iguaino ad esempio, quindi sicuramente ci sarebbe un discorso di uscita che adesso non possiamo prevedere e se abbiamo visto che abbiamo avuto difficoltà nella fase estiva della Juventus a vendere uno tra Iguaino di balla e alla fine neanche uno dei miei venduti, parlare di acquisti è ancora più ingiusto, perché fino a quando non vendi, questi in qualsiasi situazioni di emergenza o meno non puoi comprare, perché sarebbe folle comprare un giocatore senza avere la certezza di rientrare di questo investimento con una cessione importante, quella di Juventus, potete pensare. Ho visto di chiesa, sto vedendo veramente ogni giorno nomi su nomi. Ora, chiaramente il discorso, io mi faccio assoluto il discorso, in questo momento il calciomercato serve a riempire, riempire spazi che non riuscirebbero a riempire in altro modo e questo porta chiaramente delle visualizzazioni, perché chi fa contenuti online porta delle vendite di giornali, perché chiaramente parla di carta stampata, porta anche su YouTube molti guadagni, perché il calciomercato su YouTube, perché visto che è sensazionalistico il fatto di parlare un video di Milica la Juve, parliamo di Milica la Juve, tutto ciò porta solo guadagni a chi ne parla, ma chi ne parla non sa effettivamente se la cosa può essere vera o meno, perché chiaramente siamo spesso persone comuni che si affidano a cosa, al sentimento, a quello che si sente, a parere personale, pertanto è tutto un discorso, una macchina da soldi questo calciomercato, e appunto per questo prendete tutto con le pinze, perché dietro a questa, l'obiettivo primario di chi parla di calciomercato è raggiungere le più persone possibili, non informare. Il gossip non è informazione, e il calciomercato anche. Nel momento in cui si va ad ufficializzare una trattativa, quella è informazione chiaramente, questo segue un comunicato, o comunque prende in considerazione personaggi particolari che si occupano di mercato, non portando al livello di gossip, quanto piuttosto perché hanno effettivamente delle relazioni loro con delle persone da detti lavori interni ai club. E allora in questo caso si fa informazione perché si fa una sorta di investigazione, insomma in merito quel che sono le trattative, quindi i vari agresti, i vari di marzio. Per quanto magari un di marzio possa ricamarsi spesso e non azzeccarci, questo è successo, però lo fanno con molta più condizione di causa, ma sono pochissime persone. Tutto il resto sono persone che chiaramente vogliono arrivare a un pubblico più largo, cercando di in qualche modo indortarli con quelle che potrebbero essere delle suggestioni. Possono anche esserci suggestioni, potrei anche io menzionare un nome ipotetico, effettivamente che potrebbe anche esserci, un verosimile, perché se dico adesso un nome non attaccante, interessante, magari poi ci azzecco pure. Però non vuol dire che faccia informazione, è un discorso puramente personale, di sentore, di parere personale, che può anche essere vero, ma vero non perché lo sappia, ma perché sono stato fortunato ad azzeccarlo questo nome. Quindi attenzione a queste cose qua. Ve lo ripeto spesso, ma ve lo ripeto adesso ancora di più. Se già io sono molto scettico a giugno o luglio di quello che si dice in giro in merito del calciomercato, figuriamoci in aprile, con un campionato non ancora finito, con una situazione di emergenza che non si saprà quando finirà, e sicuramente non finirà con il calciomercato tipo a date, e punto per questo, parlare adesso di calciomercato è ancora più sbagliato, ed è ancora più in qualche modo anche poco corretto nei confronti di chi segue me, ma di chi segue anche altre persone, di chi leggi giornali, di qualsiasi cosa. Tenete il calciomercato adesso come riempimento di spazi che non riusciamo e non riescono a riempire in altro modo. Questo, a mio parere, chiaramente potrei essere anche smentito, però, io ne lo dico con la buona fede, tutta la buona fede del mondo, che purtroppo nel mondo del calcio, YouTube, giornali e così via, manca molto. Il buona fede, credo che sia un principio, diciamo così, importante, al quale spesso molti vengono meno per un discorso prettamente economico, ma questo non credo che sia una novità e non sia l'unico a pensarlo. Forza io come sempre. Alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua Storie in bianco e nero Dove abbiamo solo un ruolo Visto da comparsa